Il tempo è buono, molto poco vento che mi accorgerà in 7 gradi, però ci metterà. Arriveremo domani mattina alle ore 7 ad Amburgo. C'era un nuvoloso sì, però appunto vi invitiamo anche ad uscire a godere dell'aria fresca. Vi ringraziamo per averci scelto per le vostre vacanze, augurandovi un buon ritorno alle vostre casa a nome di MSG Cruciale del nostro comandante Henry Leppery dell'equipaggio. Grazie ancora una volta e a presto. Grazie a tutti e a presto. Grazie a tutti e a presto. Buongiorno a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.